Villa Favorita d'Ancona, sede dell'Istao, ha ospitato il D-Day del Master Accreditati Asform, Associazione Italiana per la Formazione Manageriale. Guardate. Villa Favorita d'Ancona, sede dell'Istao, ha ospitato il D-Day del Master Accreditati Asform, Associazione Italiana per la Formazione Manageriale, con un appuntamento dal titolo Recruiting Game, termine inglese che ha sostituito il nostro gioco del reclutamento. Per la realizzazione, il Stauco è un voto personale qualificato in materia di selezione e valorizzazione delle risorse umane di importanti aziende del territorio, mettendoli a disposizione dei giovani preparati che si sono letteralmente messi in gioco. Oggi è il D-Day, D-Day Asform, è una giornata nazionale che collega una quarantina di business school nazionali tra le più prestigiose. Noi abbiamo l'onore di partecipare a questo network e il D-Day è pensata come giornata di comunicazione per i ragazzi. È un momento in cui ci siamo poi inventati una modalità didattica innovativa, Recruiting Game. Quindi i ragazzi sono una quarantina che stanno già lavorando con i nostri tutor e devono simulare con dei veri char, che sono i char delle nostre imprese socie, una situazione di partecipazione ad un processo di selezione. Ci sarà un premio finale, una competition ed è una situazione che li mette direttamente a contatto con quello che è un po' il futuro del loro mondo del lavoro. L'Istituto Adriano Olivetti, come sempre, ha disposizione dunque del territorio per qualificare i ragazzi e le loro aspettative. Oggi realizziamo una delle attività di orientamento dell'Istau perché l'Istau da sempre, da oltre 50 anni, svolge anche una funzione sociale sul territorio verso i giovani. Quindi gratuitamente realizziamo molte iniziative durante l'anno nelle quali invitiamo giovani e forniamo loro consigli utili su come approcciarsi al mondo delle imprese. Lo facciamo attraverso il coinvolgimento diretto di aziende, responsabili risorse umane, selezionatori. Diamo loro l'opportunità di avere un'esperienza concreta di come poi possono essere selezionati ed essere vincenti una volta terminato un percorso di studi, in modo che si accorcia il gap tra il momento dell'università e il momento dell'entrata in azienda. L'attività di Stau dunque prosegue a dimostrazione di come l'Istituto rappresenta un punto qualificante e qualificato per la formazione di giovani laureati che rappresentano a loro volta un grosso patrimonio per tutta la Regione. Noi siamo in realtà nel territorio, siamo molto presenti e siamo un po' nati nella nostra mission al servizio del territorio, quindi non solo abbiamo una rete di imprese che ci è vicina, ci sostiene e ci esprime continuamente esigenze di aggiornamento, di crescita, di sviluppo del potenziale anche dei ragazzi che abbiamo. Abbiamo anche un contatto molto forte con le università, le quattro università marchigiane, perché tutto questo alimenta poi un flusso continuo di apprendimento e anche esperienza che riversiamo formato nel mercato del lavoro marchigiano.